Dopo due anni di limitazioni con tamponi e green pass a rubarsi la scena, torna protagonista della sua serata la notte più glamour dell'estate pesarese. Candele sotto le stelle, arrivata la sua ottava edizione, è pronta per mercoledì 10 agosto ad illuminare la costa di Pesaro e Gabicce e il borgo storico attorno al castello di Gradara. L'eleganza del vestito bianco si prepara a prendersi la scena anche per quest'estate. In quest'anno come sempre avremo i mille pali presenti in acqua con le citronelle che dureranno più di 8 ore, quindi abbiamo una durata molto ampia dell'illuminazione, più altre tantissime candele, tantissime lumelle che andranno a illuminare anche i vari stabilimenti balneari perché noi daremo un kit a tutti i bagnini, daremo tutti un kit con tantissime candele che alcune le ho mostrate prima in conferenza stampa e di un totale di più di 20.000 fiammelle, quindi avremo più di 20.000 fiammelle presenti per quella serata. Abbiamo Gabicce e Gradara, poi non dobbiamo scordare anche Vallugola e la spiaggia di Firenzuola, quindi abbiamo in linea d'aria 20 chilometri di estensione dell'evento e solo 7 chilometri comprende Pesaro solo lungo tutto il litorale con i vari bagnini e i vari stabilimenti. Proprio in adiacenza lì alla sfera grande di Pomodoro avremo una scritta composta da più di 400 candele, anzi ne lungeremo anche 500 candele che andranno a comporre la scritta Pesaro 2024. Dopo due anni in cui sono stati in parte limitati dalle modalità di fruizione e ora ritorno alla normalità, pur con l'attenzione ovviamente al tema del Covid che non è del tutto scomparso, ma anche con la consapevolezza che un evento così all'aperto costituisce anche la cosa più bella e sicura che si possa fare in questa estate così calda e così bisognosa di momenti piacevoli di ritrovo. La spiaggia che continua a illuminarsi con decine di migliaia, dicono 20.000 candele per tutto il litorale e eventi che ritornano, anche musicalmente ci saranno quegli spazi che avevamo evitato di percorrere negli ultimi anni, compreso anche un concerto in Piazzale della Libertà, la partecipazione di Gradara e di Gabice Mare, quindi anche qui mettere in pratica il senso della riviera del San Bartolo e anche raccontare un'offerta turistica, anche un ringraziamento naturalmente a tutti quelli che lavorano per questo grandissimo sforzo, a partire dalla Proloco di Candelara, le associazioni dei bagnini, degli albergatori, tutte le realtà, i restauratori stessi, tutti quelli che sono coinvolti nel fare funzionare un piccolo miracolo organizzativo perché comunque puoi ospitare decine di migliaia di persone in un lasso di tempo anche ristretto e anche un bello sforzo organizzativo, quindi tutta la logistica. Voglio ringraziare naturalmente anche il nostro centro operativo, la protezione civile, le forze dell'ordine che consentono anche appunto che sia un grandissimo evento ma nella massima tranquillità e poesia di come è stato concepito, di come si mantiene con una gran forza.